Buongiorno 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 Abbastanza in mezzo Pronti a riprendere Brescia Ottimo Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un bel paio di guanti di protezione. Grazie a tutti. Altri due volontari, per favore. Forza, forza, vieni, vieni. Vieni, vieni. Forza, forza. Vieni, un altro volontario. Ecco, lui ha alzato la mano. C'è le ucchie. Perfetto. Allora, il prezzo si compone di tre sezioni. Prima sezione, tu dai una sezione. Parli in italiano. Adesso sta con lui, dai. Ecco lui. Un, due, tre. Tre. Poi, dopo più o meno dieci secondi di questa meravigliosa sinfonia, tu comincerai a dare tanti punti qui dietro. Proviamo prima e seconda sezioni. Tu vai avanti. Cattivo, cattivo, violento. 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 Va morto, così. Come prima? Guarda, vieni. Va. Vieni, 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 vieni. Attenzione. Vieni, 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 vieni. Suona, fai la cosa che stai facendo prima. E dovrai fare prima. Proviamo. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Prego, prego, prego. Vieni, 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 vieni. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.